Una sessantina di siti inquinati da sversamento illegale di Amianto e una spesa di 15.000 euro al mese per le bonifiche. E' quanto emerso da un censimento del Comune di Napoli sulle discariche abusive in città. A comunicarne i risultati è il sindaco del capologo partenopeo Luigi De Magistris, a margine del convegno Amianto, Giustizia e Salute, organizzato all'APIN, la rete lesioni personali d'Amianto. Proprio un'esperienza personale del sindaco viene portata ad esempio. Scoprimmo grazie a una denuncia di alcuni medici coraggiosi che aumentavano i tumori dei bambini in età scolare intorno ai 10 anni in una città del sud della Calabria e approfondendo scoprimmo che l'Andrangheta, una cosca dell'Andrangheta colludendo con imprenditori collusi e con politici corrotti smaltiva illecitamente l'Amianto nelle scuole. Quindi come si può vedere quando parliamo di eco-mafie parliamo di una questione che può riguardare chiunque. Perciò c'è bisogno di una grande battaglia contro i crimini ambientali. Ma il problema da quanto emerso nel convegno è più ampio e tra valiche i confini regionali. In Campania, così come su tutto il territorio nazionale, non esistono discariche per il conferimento di questo materiale altamente cancerogeno. Così l'Amianto deve essere trasportato all'estero con ingenti costi difficilmente sostenibili, soprattutto dai singoli privati cittadini. Ecco spiegata quindi la pratica così diffusa degli sversamenti abusivi causata spesso anche dai costi eccessivi di smaltimento della sostanza. Per il presidente dell'Apin, Nicola Carabellese, bisogna mantenere alta l'attenzione dell'opinione pubblica. L'Apin ha uno scopo importantissimo. Vuole creare le sinergie tra tutti i soggetti che si occupano di amianto. I medici per quanto riguarda la diagnostica e la prevenzione, gli avvocati per quanto riguarda le richieste di risarcimento danni e le società di bonifiche per quanto riguarda gli interventi su siti purtroppo ancora ricchi di amianto, strutture pubbliche, private. Quindi con l'Apin si crea un soggetto, una vedetta a tutela delle persone in generale, sia lavoratori sia non lavoratori.